Dottoressa, tanta carne al fuoco, partiamo dai comuni. Si stanno impegnando per il piano di rientro? Tutti i comuni stanno deliberando il piano di rientro, il consiglio comunale. Io li dovrò asseverare. Già qui mi cominciano ad arrivare delle delibere di consiglio comunale, quindi sarà nostra cura inoltrarli al più presto i comuni affinché possano loro direttamente presentarli alla Regione. Questo significa dare delle garanzie ai fornitori, soprattutto alle ditte che si occupano della raccolta? Certo, questo fa ben sperare che poi successivamente a questi piani di rientro possiamo concludere degli accordi con i vari fornitori che sono anche garantiti da queste somme che erogherà la Regione in 5 tranche. A fronte di piani di rientro di circa 45 milioni, noi dobbiamo in questo momento soltanto erogare a tutti i fornitori non più di 16-17 milioni di euro. Per quanto riguarda gli impegni immediati, i comuni, i sindaci avevano assicurato uno sforzo ulteriore per mettere mano al bilancio, per erogare un po' di liquidità al lato. Ecco, sotto questo punto di vista come vanno le cose? L'hanno assicurato per far pagare dall'aggruppamento di impresa almeno lo stipendio di settembre e la tredicesima mensilità. Da questo punto di vista cominciano ad arrivare delle somme. È chiaro che i comuni stanno facendo degli sforzi enormi perché ancora l'IMU non l'hanno incassata, quindi è una corsa contro il tempo. L'ultima nota dolente è quella della discarica di Siculiana, c'è un ultimatum, domani quanto pare non si dovrebbe più conferire lì se non dovessero esserci novità dal punto di vista finanziario. Ecco, sotto questo punto di vista ci sono delle rassicurazioni oppure c'è il rischio che da domani gli autocompattatori possano restare parcheggiati? Credo che proprio domani possiamo conferire perché ancora domani saremo coperti dall'emergenza rifiuti. Il problema si porrà da dopo domani. Io sono sempre in contatto col commissario per l'emergenza per cercare di trovare una soluzione a questo problema, ma in questo momento non ho dati precisi. Cosa succederà in caso di chiusura della discarica? Ma si dovrebbe trovare un altro sito dove andare a conferire, ma io mi auguro di no perché la discarica di Siculiana è proprio quella nostra, cioè nel senso quella di questo territorio. Quindi è assurdo che i comuni debbano poi pagare cifre maggiori perché anche il fatto stesso di spostarsi, quindi autocompattatori che si spostano, straordinari lavoratori, poi purtroppo va ad incidere già su questa popolazione che è già tartassata da mille imposte.